In vestitura ufficiale domenica 17 febbraio per il nuovo capitano della Real Mestranza 2013, Roberto Di Dio, della categoria Pittori-Decoratori, che succede a Gioachino Ricotta della categoria Barbieri-Acconciatori. Alle 9.45 raduno delle delegazioni delle cariche capitanali uscenti e subentranti e degli appartenenti alle rispettive categorie. Il raduno delle due delegazioni è avvenuto in sedi separate. La delegazione, guidata da Gioachino Ricotta, si è riunita in Corso Umberto davanti alla chiesa di Santa Lucia. L'altra, con in testa Roberto Di Dio, si è radunata davanti alla chiesa Santa Croce alla Badia. Quindi, entrambe le delegazioni hanno raggiunto il comune, dove si sono incontrate intorno alle 10 nell'atrio. Presenti le autorità e i rappresentanti delle varie categorie della Real Mestranza e dell'omonima associazione, dell'Associazione degli Ex Capitani e della Diocesi. Poi, le gran cerimoniere della Real Mestranza, ha presentato il nuovo capitano e la sua squadra al vice sindaco Carlo Giarratano e all'assessore Zurli. Poi, tutti in corteo, si sono spostati al Teatro Margherita, dove ha avuto inizio la cerimonia per il passaggio delle consegne. Dal capitano uscente, Gioachino Ricotta, e dalla sua squadra, formata dallo scudiero Franco Liuzzo, dall'alfiere maggiore Roberto Infantino, dal portabandiera Edoardo Cammarata, e dalla Labardiere Enzo Culmone, ai pari grado Roberto Di Dio, nuovo capitano, Gianluigi Bingo Scudiero, Antonio Matina, alfiere maggiore, Michele Lombardo, portabandiera, e Salvatore Scarantino, a Labardiere. È un onore sicuramente, lo affronteremo con dignità, chiaramente, è chiaro che era inaspettato, di conseguenza non è una cosa di tutti i giorni, quindi spero di essere all'altezza dell'incarico che ho ricevuto, chiaramente, di sostituire anche degnamente il maestro Armando Scarantino che era stato designato e che purtroppo per motivi che già penso voi già sapete ha dovuto rinunciare. Comunque spero di coronare questo sogno nella maniera più serena possibile. È una cosa particolare, unica, quindi non ci sono aggettivi per poter descrivere queste sensazioni. Io spero di aver fatto bene, ho fatto del mio meglio, con tutte le vicissitudini che ci possono essere state, con la crisi che c'è in giro, con i problemi di tutti, però noi facciamo il massimo, noi siamo delle persone che lavoriamo, siamo artigiani, cerchiamo di mandare avanti la manifestazione, cerchiamo di far bene per la città, per noi e per il futuro di questa città, per i ragazzi, per i ragazzi e per i giovani che attualmente hanno più problemi forse di noi. E cerchiamo di portarla avanti pensando che questa manifestazione ha molto, ma molto più da dare e da ricevere pure per i nisseni. E quindi fare il cambio capitanale per me ora è l'ultimo atto del mio capitanato che con piagere passerò le consegne al nuovo capitano, Roberto Di Dio, che merita forse più di me. La carica, penso che farà forse bene, ma forse meglio di me.